Lo sport, il suo potere e i suoi valori. Lo sa bene il liceo scientifico Marconi di Pesaro che da anni investe nella pratica sportiva abbinata allo studio, considerati elementi fondamentali per una crescita culturale sana dei suoi studenti. E sono proprio gli studenti ad aver portato a termine la nuova palestra di powerlifting e bodybuilding che è stata inaugurata questa mattina, la prima di questo genere in un liceo sportivo del territorio italiano. Uno spazio che verrà usufruito da tutti gli studenti del liceo nelle ore di lezione di scienze motorie, ma anche da chi durante il pomeriggio vorrà partecipare ad un corso di powerlifting in lingua inglese, tenuto da un madrelingua dove poter elaborare contemporaneamente più skill. Il legame con lo sport cittadino, quindi il basket e la VL miscelato con l'inglese, ha portato il liceo Marconi a dedicare la nuova palestra all'ex giocatore bianco-rosso Alfonso Ford, uno degli atleti più amati da Pesaro. La nostra idea da sempre è di lasciare dei luoghi che possano diventare dei luoghi dove i ragazzi possano fare esperienza, in modo particolare ci piace sempre di più pensare che questi luoghi siano progettati dai ragazzi. Quindi noi non abbiamo fatto altro che scrivere il progetto, ma in realtà il progetto è stato tutto organizzato e ideato dai nostri studenti con un'esperienza di alternanza scuola-lavoro nella quale loro hanno ideato la palestra, hanno fatto le ricerche rispetto anche a tutti i preventivi che potevano essere fatte sulle strutture e dopo noi abbiamo scritto un progetto che ha vinto un premio a livello ministeriale che è stato quindi quello che ci ha permesso concretamente di acquistare questi attrezzi. La pittura di tutta la struttura è stata fatta da loro, il progetto grafico da uno studente del liceo Marconi, quindi è proprio bello vedere i ragazzi che interagiscono tra di loro al di là dell'attività concreta che poi andremo a fare qui, che sarà appunto di tipo sportivo, pensare anche che il progetto stesso diventi un'attività esperienziale che possa aiutarli anche nel campo del management e della gestione delle attività. Abbiamo iniziato dividendoci i compiti, il primo innanzitutto è stato il ridipingere tutta la Palestina perché inizialmente adesso non era il top però abbiamo dovuto scrostare un po' tutto e ripitturare. Seconda cosa poi abbiamo messo i pavimenti che sono arrivati insieme a tutta l'attrezzatura che abbiamo ordinato saggiamente tutti insieme, per l'appunto non l'ho voluto fare da solo, ho chiamato dei collaboratori. Avevamo uno spazio relativamente limitato ma volevamo puntare molto sulla qualità, quindi abbiamo selezionato due marche made in Italy per rimanere comunque nel territorio, abbiamo scelto attrezzi di alta qualità per poter svolgere tutti gli esercizi che noi troviamo più fondamentali in palestra. Ho collaborato con dei giovani e condividendo i nostri interessi, le nostre future professioni, le nostre aspirazioni per creare un progetto che poi sarà possibile da utilizzare per altri giovani. Il risultato ottenuto dal Marconi è la ciliegina sulla torta di un percorso iniziato dieci anni fa con l'inserimento dell'indirizzo sportivo allora promosso dal professor Damen e accolto con grande entusiasmo dal collegio docenti. L'idea appunto è anche di comunicare l'importanza che lo sport non sia qualcosa per chi non ha voglia di studiare ma sia un elemento formativo per chi vuole investire di più nella sua vita.